ma quanto è simbiotico il rapporto rap e tiktoker, è esattamente beline e calciatori, è quello quello quello, coccodrilli e canarini infatti la vera la vera, diciamo, manifestazione del cazzo grosso è scopare da podcaster dici? sì regà, perché comunque nella cadena alimentare stiamo bassi, dipende anche da che podcast c'hai bro no, però è un ruolo un po' denigrato in generale punto, stiamo bassi nella cadena alimentare però, però un po', un po', secondo me però io tutte le volte che vedo tipo una menzione di un podcaster proprio X, non di qualcuno di specifico, è sempre tipo another guy with a podcast cioè, è sempre tipo l'ennesimo coglione, è sempre ah, un altro coglione che parla di cazzi comunque è la roba che dicevi prima sai com'è il metodo per cui i podcaster possono iniziare a scopare? iniziamo a flexere i soldi bro, iniziamo a comportarsi insieme a parlare dei nostri sentimenti noi non ne facciamo, che ne pensi invece? vuoi solo ragazze superficiali bro? no, ma è proprio quel contrario già io vi sto a dire che il vero flex è scopare non da sfigato non da sfigato perché ma non è un flex scopare non è sfigato uno che abbraccia la propria passione no, però dagli occhi di capito una ragazza X magari agli occhi della ragazza non ce ne fotte un cazzo è una ragazza che andrà con altri che cerca altre cose per me è epico invece cioè è tipo un test perché se noi fossimo tre crypto boys che ci sediamo qua a dire no, ragazzi perché gli NFT sono il futuro dico merda però se noi siamo qua a parlare di cazzate una ragazza guarda sta roba e ride e poi mi scrive comunque io penso che sta ragazza ha un senso dell'umorismo simile al mio il che ci sta esatto ma infatti è figo perché alla fine non avete bisogno capito di comprarvi Rolex falsi o appunto appoggiarvi su status del rapper criminale che semena con l'altro e poi non è in grado manco delle canafregne cioè ma i tempi un po' cambiano dai guarda tipo Kim Kardashian con Pete Davidson secondo me c'è anche un po' quella tendenza quello un po' più il podcaster sta diventando cool dici ma non è tanto il podcaster in sé ma avere quel tipo di personalità un po' sai un po' meme un po' certo ma funziona pure quella però dico che ovviamente in Italia se tu dici che professione fai il podcaster vabbè hanno scoperto sei mesi eh capito appunto cioè quando abbiamo iniziato nel 2018 non esisteva manco il termine erano solo gli audiolibri che andavano su Spotify non c'era proprio il termine podcast ma infatti noi abbiamo iniziato facendo il cerchio che non era manco un vero podcast ovviamente era uno show no però ovviamente avevo pensato quella roba di inserirlo nel titolo per la chiave di ricerca e infatti da lì 2019-2020 sono un po' c'è stata la prima ondata podcast e sta cosa è stata molto utile i primi che hanno scritto podcast italiano non i primi però i primi rilevanti sì e se ci pensi non c'è un podcast così longevo nonostante siano pochi anni al 2018 non c'è se non piccole realtà però appunto vero effettivamente non ci sono però devo dire cosa ne pensi adesso invece del fatto che ce ne sono così tanti ah tra l'altro piccola parentesi sai che tu sei l'unico credo tra appunto i podcaster famosi che effettivamente ci ha fatto i complimenti spacca sta roba beh è vero nessuno ci dice niente e che anche prima ha citato più vecchi episodi eccetera vuol dire che li ha guardati io ho visto tutto cioè capito e sta roba in realtà è il primo nonché l'unico il vero riconosce il vero ahah